Oh no, è da pochi anni che ci siamo. E vi piace? Oh non so, non esco quasi mai. Mio padre preferisce che rimanga in casa. Non vi annoiate? Oh no, alla mattina e al tramonto io scendo in giardino a coltivare i fiori e poi ho tutta questa roba da leggere. È vero? Ma come fate a saperlo? Avanti un altro. Natalia! Natalia! Dabà che c'è o da fare? È importante, c'è una persona che ti vuole parlare. E via, sbrigala tu, nemmeno questo vuoi fare. E beh no, è meglio che te ne occupi tu. Ah, siamo alle solite. Si tratterà d'affari e tu te ne vuoi lavare le mani? Oh in un certo senso sì, ma vedrai che sono affari che ti interesseranno moltissimo. E va bene, occupati tu di loro. Ah, tutto io devo pensare in questa casa, ma è un momento di pace. Ah, tutto io devo pensare in questa casa, ma è un momento di pace. Buon anno alle rose, passano tante cose, come un soffio passa il gioventù. Ah, tutto io devo pensare in questa casa, ma è un momento di pace.